Primo giorno di lavoro per il Pescara per la nuova stagione 2018-2019. La comitiva biancazzurra si è ritrovata ieri quasi al completo all'EcoTel e oggi prima seduta agli ordini di Bepi Pillon sui campi del Vestina di Monte Silvano. Quasi al completo perché della lista dei 28 convocati è assente il centrocampista senegalese Frank Canutè che arriverà in settimana. Staff tecnico al completo dunque con Bepi Pillon e le conferme del vice Lele Pesoli, dei preparatori atletici Giacomo Tafuro e Jacopo Pillon. Il preparatore dei portieri Gabriele Aldegani e il match analyst Diego Labricciosa. A questa prima mattinata di lavoro non hanno preso parte Gaston Brugman, Edgar Elisalde e Osama Chin che hanno svolto le visite mediche dopo essere rientrati dalle rispettive vacanze. Il gruppo è stato suddiviso in due campi, da una parte i tre portieri Fiorillo, Savelloni e Castrati e i difensori tra cui Ugo Campagnaro che resta in biancazzurro per la quarta stagione consecutiva e Francesco Zampano, il quale è ancora in attesa di un'offerta, lui che al pari di Brugman era e resta un potenziale uomo mercato in uscita del Delfino. Presenti anche i nuovi Alessandro Celli e Daniele Celiento, oltre che Michele Fornasier, altro probabile partente. Su un altro campo i centrocampisti e gli attaccanti. Una pattuglia questa che il mercato dovrà aumentare in qualità e quantità. Si è rivisto col pallone il centrocampista Andrea Palazzi dopo il grave infortunio della Spezia. C'erano anche i Bebi, Mancini e Morselli ed altri calciatori quali Ventola, Forte e Selasi che sono in attesa di nuova sistemazione, così come Yamga che ha il secondo anno di prestito dal Chievo ma non è detto resti nel rival adriatico. Ha lavorato a parte Antonio Balzano che ha ancora i postumi dell'infortunio muscolare patito a Terni e che gli ha fatto chiudere anzitempo lo scorso campionato. Complessivamente però uno scenario molto diverso da quello di un anno fa quando a Rivisondoli il Pescara iniziò il ritiro con ben 39 giocatori. Il Delfino suderà per una settimana a Montesilvano. Lunedì prossimo seduta mattutina al Vestina e nel pomeriggio il trasferimento a Palena dove la squadra proseguirà la preparazione fino al 29 luglio. Nel frattempo si attendono novità dal mercato, soprattutto sul fronte attacco dove Melchiorri resta il sogno, anche se il presidente Sebastiani e il DS Leone tengono d'occhio anche altre piste, quali quelle di Bruno Petkovic del Bologna e Gaetano Monachello dell'Atalanta. Sul fronte esterni fase di stallo per Gennaro Tutino che vuole venire a Pescara anche se il DS del Napoli Giuntoli prova a spingerlo alle Carpi. E per il gioiellino della Roma Mirko Antonucci, per il quale in questo caso le due società sono d'accordo, ma al momento è il giocatore ad avere qualche ritrosia e vorrebbe giocarsi qualche chance con un prestito in Serie A. Nei prossimi giorni, in un caso o nell'altro, le due vicende di mercato si sbloccheranno.